Il Comune di Napoli promuove una campagna di sensibilizzazione al possesso responsabile dei cani attraverso un percorso formativo dal titolo Il Patentino, percorso formativo per proprietari di cani, realizzato dal Centro di Riferimento Regionale per l'Igiene Urbana Veterinaria in collaborazione con Università ASL Napoli 1 Centro e il Centro Comunale di Accoglienza per Cani Servizio Tutela dell'Ambiente, della Salute e del Paesaggio del Comune di Napoli. I partecipanti saranno 40, metà saranno individuati dalle ASL fra i proprietari di cani a rischio elevato di aggressività, mentre per gli altri posti bisogna fare richiesta entro il 15 giugno attraverso un modulo che si trova sul sito del Comune di Napoli e su quello del Centro Regionale per l'Igiene Urbana Veterinaria, dove si può anche leggere l'offerta formativa e il programma dettagliato.